ciao amici come state? spero tutto bene oggi come vedete anche dallo sfondo e dalla prelibatezza che ho qua davanti andremo a mangiare il sushi bene ragazzi iniziamo subito subito mi servirò anche di queste super pacchette fighissime luminose che ho preso appositamente per voi per mangiare questo sushi super super speciale bene intanto le spengo perché qua ho preparato un soft aperitivo con succo di malva e perle di tapioca che adesso andrò a bere e poi durante il pranzo ho preparato questo long drink dentro i semi di basilico che fanno molto bene per la digestione quindi iniziamo subito siete pronti bene saluta intanto vi godo con voi questo aperitivo molto buono le perle di tapioca danno quel tocco dolce ricordo che analcolico danno quel tocco dolce a questo succo di malva che è meraviglioso le perle di tapioca che scoppiano in bocca sono una vera delizia bene ragazzi iniziamo subito per prima cosa vado a mettere su un po di succo di soia olio di soia che è molto buono andiamo ad innappiare i nostri il nostro sushi con il succo di soia mamma mia che profumo ragazzi c'è anche il wasabi beh dai ne metterò una puntina su su qualche sushi così vi faccio ridere ok perché veramente il wasabi è molto 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 piccante però lo si mangia lo stesso ecco ok qua abbiamo la cipolla penso siano delle alchette insomma comunque le voglio mettere su anche queste magari le metto su ecco usiamo le barriere forti allora ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua perfetto benissimo ragazzi allora è veramente buonissima aspettate un attimo che arrivo ok allora andiamo a mettere l'altro questo qua allora andiamo a mettere anche l'altro scusatemi ragazzi così è il bello della diretta ragazzi è questo allora con i dentoni facciamo tutto allora mettiamo questa, sembra cipolla non lo so delle alghe strane non ho mai capito cosa sono si ragazzi li tiro fuori col dito perché il sacchetto non si è aperto del tutto e quindi facciamo così guarda ecco spero di riuscire a prenderle su allora abbiamo il wasapino qua lo so se mi conviene metterlo comunque ma io dirò ragazzi perché sennò è troppo piccante se no preferisco non metterlo bene cominciamo io vi auguro un buon pranzo ragazzi e inizio con voi ad assaporare queste ragazzi allora io volevo mettercelo un po' per ora ce l'ho fatta ce l'ho fatta oh mio dio eccolo qua lo mettiamo un pochino qua su questi qua poco 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 eccolo eh insomma sia che perché è piccantissimo questo eh e quindi meglio metterne poco infatti andiamo subito a prelevare se ce la faccio è perché non ne ho mai usate le pacchette è la prima volta che le uso con voi infatti sono un po' impedita allora no ragazzi ce l'avevo fatta prima eh allora bisogna avere un po' di pratica e basta oh no ragazzi aiuto vabbè allora che sembra niente ragazzi mi tocca prenderle con le mani perché non ci riesco peccato perché veramente non ci riesco non ci riesco non ci riesco bene un po' di ma devo prendere la mano ragazzi perché veramente non ho provato ci rinuncio oggi vado con le mani eh scusate non ci rinuncio forse così no no ragazzi è troppo difficile cioè mi scappano dalle mani no ragazzi no mi tocca metterle via perché non riesco va bene dai andiamo avanti così allora buono 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 allora guasabi ragazzi maggiori guasabi così vi fate due risotti ah tanto wasabi mamma mia quanto è piccante ragazzi è piccantissimo però è buono è veramente buono asa ciano subito no è buonissimo ragazzi, il wasabi è una cosa strepitosa, infatti lo voglio mettere tutto, 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 no non è poi così piccante, pensavo di più mi viene a piangere allora non mi voglio arrendere, voglio provare, allora vediamo ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, a parte i scherzi non è per niente facile, ve lo dico che non ce la faccio non ce la faccio, scivola, scivola, si ce la faccio dai, non ce la faccio buonissimo ragazzi, buonissimo io li infilzo faccio prima l'infilzo, ecco faccio, forse li devi infilzare così, ecco 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 ok 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 buonissimo ragazzi ho capito che li devo infilzare ragazzi li devo infilzare così è che non si toglie aspetta infilziamolo così così ecco un peccato no peccato perché li avevo presi apposta andiamo ad infilzare vedi che ce la faccio ce la faccio un peccato un peccato un peccato un peccato allora vediamo questo se si infilza si si infilza anche questo ragazzi infilziamo perché il segreto sta nell'infilzare infilzare l'olio così non ti scappa ecco è lo segreto dai ho imparato con voi sono contenta che ho imparato con voi e qua allora infilziamo qui buonissimo 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 ragazzi tanta roba buonissimo 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 Allora andiamo a prendere questo qua con questo camperetto, no, l'ho diviso, aiuto adesso E questo camperetto è veramente ottimo Allora, gassi, non, non Ok, ok. Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi do appuntamento al prossimo. Buona giornata.